Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Oggi avevo in mente di portarvi un certo tipo di contenuto, che in realtà devo spostare per forza di cose, a oggi pomeriggio, o domani, comunque ne parleremo, abbiamo adesso tutto il tempo del mondo, ed è un contenuto relativo a Massimiliano Allegri e quello che deve fare oggi Allegri per cambiare la strada che ha intrapreso con la Juventus e per cercare di dare un futuro a questa squadra, visto che molto probabilmente verrà confermato sulla panchina della Juve, quindi dobbiamo cercare di capire come Allegri potrà riuscire a risollevare questo momento terrificante bianconero. Però ieri sono uscito un paio di notizie che mi va di commentare insieme a voi e che secondo me sono molto importanti da analizzare, prima di tutto però vi invito a scaricare l'applicazione di numero 10, trovate il link qui sotto in descrizione, come ben sapete è un'applicazione con la quale collaboro, con la quale lavoro, escono tanti i miei contenuti, ieri è uscito anche un articolo su Andrea Agnelli, quindi vi invito a andarvelo a leggere perché alcuni spunti di riflessione vanno a toccare anche uno dei due argomenti che andiamo a toccare oggi, e quindi io vorrei iniziare proprio da questo, e cioè dal comunicato della curva, ok, Viking, Drugi e Nord-Est, quindi praticamente una gran fetta di stadio, io non so chi gestisca il profilo Instagram di questa curva Juventus, non ho idea, non so chi siano le persone che hanno effettivamente buttato giù queste righe, perché come sappiamo lo stadio è grande, sono 41.000 persone, e ovviamente quando viene riempito con gli abbonamenti vuol dire che ci sono tante persone, no, che hanno diritto ad andare allo stadio e occupare queste posizioni, quindi non so chi si sia preso la briga di pubblicare questa cosa, però vorrei cercare di commentarla insieme a voi perché tocca alcuni argomenti che proprio ieri avevo sfiorato, e anche nel video di 50 minuti che è ricaricare della live di Twitch, erano venute fuori alcune cosine. Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio, scene ridicole ideate da chi si erge leader ma si comporta da vittima sacrificale. Bonucci non è mai stato leader e mai lo sarà, né all'Inter, né al Treviso, né al Pisa, né al Bari, né al Milan, né tantomeno la Juventus. È come lui, gli altri che lo assecondano. Allora, per quanto non mi piaccia la figura di Bonucci di oggi, per quanto non mi piaccia il Bonucci che è tornato dal Milan, il Bonucci che va via dalla Juventus, dopo tutto quello che è stato Bonucci, con la Juventus ero innamoratissimo, per me era un amore viscerale, quello per Bonucci lo sentivo veramente vicino a me, e quel gesto lì, ragazzi, non sarà mai cancellato, non verrà mai cancellato. È stata una cosa che mi ha fatto male, molto male. È tornato, l'ho accettato, è un calciatore della Juventus, Ad oggi è il capitano della Juventus, non ho questo rapporto così profondo d'affetto con il Bonucci capitano, però devo dire la verità, l'affetto per quello che è stato Bonucci in passato continua ad averlo dentro di me. Non è un leader e mai lo sarà è una frase forte, perché per quanto non mi piaccia la figura che si è costruito Bonucci, e posso capire cosa intendono per non è un leader e mai lo sarà, purtroppo è un dato di fatto, Bonucci oggi dentro la Juventus è un leader ed è anche uno dei pochi leader che ci mette la faccia e che parla, che parla alla squadra, insieme a Danilo, probabilmente, non me ne vengono in mente tanti altri, Bonucci è uno dei pochi, in assoluto, e questo è un dato di fatto, poiché piaccia o non piaccia il modo di essere leader da parte di Bonucci, questo è un altro discorso, ma pensare che Bonucci non sia leader della Juventus oggi è una bugia. Ieri mi facevate il nome di Scesni, secondo me Scesni può essere considerato leader, ma silenzioso, non mi sembra la persona che prende parola e parla al gruppo, non mi sembra quel tipo di giocatore. Bonucci e Danilo sì, e l'hanno fatto più volte, perché ci sono leader tecnici, leader rispogliatoio e leader silenziosi, ci sono tre tipologie di leader. Bonucci è leader tecnico, anche il fatto che l'altro giorno abbia battuto il rigore, è perché viene etichettato come leader tecnico, il fatto che parli sempre lui, che sia lui a prendere la parola in uno spogliatoio, e lo faceva già quando c'erano anche altri capitani, quindi altri leader magari silenziosi come Buffone e Chiellini, significa che è leader. Poi può piacere o non piacere il modo di gestire la squadra, il modo di parlare, il modo di essere leader, ma questo è un altro discorso, ma è innegabile che Bonucci sia un leader, poi può non piacere. In questo momento particolare di confusione generale, dove sia i calciatori che in Juventus è in curva, si assiste a un momento di totale anarchia, dove chiunque ne abbia voglia, a turno, si erge a intenditore, a capo, a leader, e a responsabile senza chi ha il carisma, nemmeno il riconoscimento della gente, o chi da anni conosce l'ambiente. Allora, questa è una frase delicata, che va sviscerata, perché c'è tanta verità probabilmente, all'interno di questa frase. il fatto che si stia continuando a cambiare linea, ogni tot, senza seguirla quella linea fino in fondo, il fatto che tante volte venga cambiato anche il progetto da seguire, sono problemi interni a Juventus, sono problemi, molti problemi. Se esistono scale gerarchiche, un momento in cui ci sarà, un bravo soldato non è lento che sia un bravo condottiero, ed è quello che dicevo prima, non significa che piaccia, non significa che sia efficace, ma Bonucci leader lo è, e questo è un dato di fatto. Portare i giocatori professionisti come vittime sacrificali, a guardare la curva, mentre li fischiano e insultano, come creando una legittimizzazione alla contestazione, ad un mese all'inizio della stagione, è semplicemente assurdo. Il risultato non può che essere la formazione di un gruppo debole, carico di negatività e vittimismo. Ecco qua invece dissento totalmente, dissento totalmente, perché dei giocatori da Juventus, giocatori fatti per giocare per la Juventus, da questa situazione qua tirano fuori il meglio, tirano fuori le palle. Dei giocatori invece non da Juventus, da questa situazione non riescono a reagire. Poi è ovvio che non è un discorso generale su tutti. Però se oggi il gruppo è debole, e se i giocatori non riescono a reagire a questa situazione, probabilmente è anche colpa e responsabilità da chi si erge il leader di questo gruppo, che significa che non sta facendo bene il suo dovere da leader, e probabilmente pure dell'allenatore, perché non sta riuscendo ad amalgamare il gruppo. E l'allenatore è il responsabile della fiducia del gruppo, oggi non so parlare. Quindi dei giocatori, un gruppo forte da Juventus, da questa situazione qua, tira fuori i coglioni perché non vuole più passare sotto la curva, ad essere, se vogliamo sì, umiliato. Se invece questa cosa continua, significa che questa cosa non viene toccata. Ma è anche per questo che l'altro giorno dicevo non mi piace che non ci vada nemmeno l'allenatore sotto la curva, perché ci si va tutti insieme, da squadra i fischi sono giusti. Io pago il biglietto, e in questo momento lo pago anche salato, se non mi piace quello che sto vedendo, ho tutto il diritto del mondo di fischiare. Tutto il diritto del mondo. Che cosa devo fare? Applaudire? Lo stesso? A me questa cosa qua, questa cosa non mi va giù di questo comunicato, non concordo per niente. Esattamente il contrario di ciò che serve nello sport, soprattutto a questi livelli, nello sport di squadra. Chissà questi giocatori con quale tramite parlano, e chi dice di fare cose che esulano dalla loro professione, dal loro sapere. state facendo più male a voi, a vostri compagni e alla squadra, di ogni allenatore per partore e o dirigente incapace. Ecco, a me un'altra cosa che non mi piace, è questa volontà di chi rappresenta la curva, o di chi si erge, di dimostrarsi tifosi maggiori rispetto a quegli altri. Per quale motivo? I tifosi della Juventus sono tutti sulla stessa linea. Non è che se c'è uno che fa curva da vent'anni e più tifoso di un altro. Questa cosa non esiste. Queste sono gerarchie inventate completamente. E questo è un ambiente tossico, eh? Questa cosa è un ragionamento tossico. E lo voglio dire, lo voglio sottolineare, e sono il primo, il primo, a volere il ritorno della curva allo stadio. Perché sono dell'idea che tanto di questo momento negativo passi anche da quella decisione di André Agnelli, alla quale ho già dedicato un video a parte. Decisione impopolare, decisione assurda, che trasforma lo stadio, dallo stadio migliore della Serie A per costruzione, allo stadio più scarico della Serie A, per forza di cose. Ma questa voglia di dimostrare che si è più tifosi o meglio tifosi di quegli altri, beh, io questa non la capisco, non la capirò mai. Il ruolo degli Ultras, quelli veri, e ancora, quelli veri, invece è sostenere la squadra finché sarà possibile. Per le contestazioni e le scuse, cari scissionisti, e si sta creando scissione in realtà, secondo me, con questo comunicato, ma va bene, c'è tempo a fine stagione oppure ci deve essere un input dall'interno. Cosa significa? E se voi, alcuni giocatori, doveste essere gli artefici di sta porcheria, vi dovreste vergognare. Se invece lo state facendo per ignoranza o scopi personali, fermatevi e sappiate che state sbagliando modi, tempistiche e interlocutori. Sono allibito, sono basito F4 da queste cose. C'è un pezzo di curva che si ritiene più diffoso del pezzo di curva che c'è adesso e che dice a questo pezzo di curva che non è bravo come l'altro pezzo di curva. Cioè, io queste cose non le ho mai capite e mai le capirò. Non le ho mai capite e mai le capirò. Mi dispiace. Se avessimo avuto qualcosa da dirvi avremmo fatto la continassa guardandovi negli occhi come abbiamo sempre fatto in passato, non in campo davanti agli avversari con fischi e insulti rendendoci e rendendovi ridicoli e deboli. Ecco, questa cosa invece la comprendo nel senso che è una cosa logica, sensata. Si potrebbe fare anche così però mi viene a dire che probabilmente in questo momento la continassa i tifosi non sono ammessi, non sono accettati, non vengono fatti entrare e che quindi l'unico modo è biglietto pagante, spettacolo raccapricciante, fischio. Fischio. È il mio diritto. Chi indossa la maglia del Juventus FC abbassa la testa solo davanti al suo popolo e non davanti a tutti, i media compresi. Intendiamoci un secondo. Quindi le persone che sono andate allo stadio e hanno fischiato giustamente perché hanno pagato il biglietto e non hanno apprezzato lo spettacolo, i giocatori abbassano la testa davanti a loro ma davanti a loro non devono abbassare la testa perché quelli non sono i veri tifosi della Juve? A me sembra di sognare quando leggo queste cose. Cioè anche in un momento così difficile andiamo a frammentare ulteriormente la tifoseria a ergerci sopra gli altri creare una tifoseria elitaria rispetto a quelle altre a tutti gli altri perché? Perché sì? Perché l'ho deciso io? No, questa cosa non esiste ragazzi. Questa cosa non esiste. Bastano gli sguardi dal campo alla curva il saluto formale con la mano alzata invece che all'esultanza per capire che vi state scusando. Noi abbiamo sempre compreso sapendo che avreste reagito e infine non prendetevi colpe che i dirigenti e il presidente incompetenti hanno e a cui dovranno rispondere. Questo invece lo capisco già di più. Il saluto invece che l'esultanza della curva sono quei messaggi quelle regole non scritte tra l'ambiente e tra i tifosi che ci stanno. Sono logici e ci stanno. Per quanto riguarda le colpe dei dirigenti io anche io aspetto a un certo punto un chiarimento da parte della Juventus intesa come parte decisionale perché più sicuramente c'è qualcosa che non va. Sempre solo amore per la maglia e poi si firmano. Abbiamo già analizzato sviscerando in tutto il comunicato le cose che condivido e le cose che non condivido e penso bene o male che si dividano a metà. Questo concetto però ragazzi del io sono più tifoso juventino di te ecco che questa cosa la combatterò per sempre perché non credo che possa essere giusta. Oggi invece parliamo anche di Zaccaria Zaccaria Arthur De Litt in realtà se proprio vogliamo perché questi tre giocatori hanno una cosa in comune e cioè due su tre hanno parlato perché poi ieri sera era circolata la fake news che anche Arthur avesse parlato in realtà era una pagina finta creata su Twitter ad hoc per ricalcare le notizie uscite però le nuove squadre di questi giocatori e magari questi giocatori hanno parlato dicendo che non sono ancora pronti per giocare o non sono stati pronti per giocare perché prima di tutto era necessario rimetterli in forma ricorderete De Litt che è rimasto fuori prima in partita col Bayern ora Arthur si sta allenando con l'Under 21 del Liverpool perché non è in forma e Zaccaria stesso è indietro di preparazione e ieri sera ha parlato dicendo il calcio del Chelsea è un calcio con più spazi ma in generale questo penso a tutta la Premier League alla Juventus invece giocavamo molto bassi molto schiacciati avremmo dovuto e potuto vincere tutte le partite 3-0 e invece questa cosa non è stata fatta quindi ci sono due problemi in questo momento quello della funzionalità del gioco dell'efficacia del gioco e io qua tiro fuori un mio credo grandissimo e cioè chi vince parla gli altri ascoltano e cercano di imparare chi non vince sta zitto e cerca di capire dove sbaglia e cerca di capire perché quegli altri vincono e cerca di capire perché quegli altri vincono e tu invece quelle cose non ce le hai tradotto Massimiliano Allegri gli anni in cui vinceva poteva parlare aveva vinto lui aveva ragione lui il campo decide chi parla oggi non si sta vincendo ed è intanto inutile parlarne e fare risaltare la propria filosofia come la migliore quando in questo momento è totalmente inefficace e allora bisogna avere mentalità aperta e cercare di capire il calcio di oggi che cosa richiede vedere quelli che vincano nel calcio di oggi perché stanno vincendo questo non mi va giù perché qualcuno mi fa ridere mi state dicendo eh adesso sei contro Allegri finalmente hai cambiato idea ti sei deciso hai perduto gli occhi ti sei svegliato ma chi segue questo canale sa benissimo che anche l'anno scorso queste cose a Massimiliano Allegri non venivano fatte passare le critiche a Massimiliano Allegri ci sono sempre state anche l'anno scorso perché le cose non andavano bene poi se soltanto adesso sono per il cambio di allenatore è perché si sono aggiunte delle componenti ma la parte critica alla gestione del gruppo di Massimiliano Allegri e alla gestione della partita di Massimiliano Allegri l'anno scorso ragazzi ce ne sono state tante qui sul canale è il pagellone l'hai etichettato come gravemente insufficiente poco più di 4 e mezzo non venitemi a dire che fino a ieri ho trattato Allegri con i guanti di gomma o i guanti bianchi che non è vero le critiche ci sono sempre state adesso sono amplificate perché anche i risultati sono terribilmente più grandi più negativi quindi questa cosa va sottolineata è il discorso relativo alla condizione fisica ragazzi a questo punto sorge spontaneo dire che si è sbagliato completamente la preparazione quest'estate perché se ha 3 giocatori su 3 che vanno via e vanno in squadre o di alto livello o campionati di alto livello non sono pronti per giocare devono fare un percorso a parte significa tanto se non tutto se ancora una volta gli infortuni vengono fuori e vanno a distruggere la squadra a creare delle assenze significa tanto se non tutto se la squadra poi ha delle autonomie di un quarto d'ora 20 minuti durante la partita significa tanto se non tutto 3 indizi fanno una prova ragazzi poi ci sono gli altri errori ci sono gli errori dirigenziali gli errori societari gli errori dell'allenatore le scelte dell'allenatore però ci sono anche delle responsabilità forti secondo me sotto questo punto di vista e ignorare tutte le componenti tutti i problemi e soprattutto ignorare davvero 3 indizi così forti e da matti non mi viene in mente un altro termine se non da matti quindi attenzione ragioniamo su questa cosa qui ieri si parlava di questo cambio a livello di staff a livello di preparatore a livello di preparazione atletica a livello di fisioterapia oggi è tardi però perché mi sembra assurdo pensare di fare una seconda preparazione con dei calciatori in nazionale con soltanto il 30-40% della rosa disposizione oggi e una seconda preparazione è un mese di distanza da quell'altra 50 giorni di distanza da quell'altra quindi mi sembra un po' assurdo però è una cosa da tenere in considerazione perché questa Juventus se va meno di quelle altre se si rompe più di quelle altre se i giocatori che van via dalla Juventus non possano giocare perché non vanno come gli altri giocatori penso che sia veramente un indizio concreto di quello che sta succedendo all'interno della Juve e di uno dei problemi da evidenziare e risolvere come non ne ho idea e quindi aspetto anche un po' le vostre valutazioni qui sotto nei commenti grazie